Quello che è accaduto per molti anni è che la disabilità, una disabilità anche grave come quella che porta l'asma, venisse associata a tutti gli aggettivi che sono parte un po' dell'aspetto più grigio, della patologia, quindi alla fatica, al dolore, alla paura, a volte alla rassegnazione. Ci sono le parti di ombra, ma ci sono anche un sacco di parti di luce come in ogni cosa e in questo progetto le persone con SMA hanno la possibilità di implementare la loro luce, di lavorare sulla loro possibilità di comunicare, ma anche di comunicare al mondo che avere la SMA non vuol dire soltanto essere su una sedia a rotelle, ma vuol dire che attraverso anche la sedia a rotelle possiamo muoverci e possiamo andare nel mondo con le persone a raccontare attraverso la nostra voce, la nostra vita, ciò che siamo e ciò che facciamo.